ciao amici youtube bentornati in questo nuovo video in una misa un po particolare oggi siamo a pullare kafka sul mio account tra virgolette perché tiro solo tre molti ma sull'account anche di tanti altri della community alcune pulci sono già state non vi svero come sono andate le vedrete in questo video altri ci saranno nei prossimi giorni e niente kafka l'aspettavamo tutti sia chi la pulla che chi non la pulla siamo tutti un po innamorati è un po la crush di tutti quindi un po la madre di tutti quindi più ne vediamo meglio stiamo e niente vi auguro una buona visione e ci vediamo nei prossimi video a tema star rail quindi mi raccomando iscrivetevi al canale non perdetevi i prossimi video si parte con la musica cerchiamo luca va bene andiamo bt15 si va a cercare luca 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 allora quattro stelle ho già sbloccato l'accement dei pg quindi non verranno simboli strani quando trovo un pg nuovo te prego luca a casa subito e io sono contenta il resto poi è fatto per per il gusto di farlo in live allora ottimo messaggi subliminali che sto ricevendo ora c'è il quattro stelle garantito del banner che sarà nella prossima multi più o meno o forse alla fine di questa che è uno dei tre non ho nessuno e sei quindi vanno bene tutti prossima multi let's go ok quattro stelle dai speriamo sia luca che almeno una copia me la volevo prendere poi se no lo troverò più avanti però per il gusto dai luca ma poi sembri di luca dovessi venirmi addosso proprio così lanciarti verso di me esatto 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 perfetto perfetto era chiaro cioè assomiglia di luca dovevi lanciarti verso di me sei arrivato non avevamo dubbi non avevamo dubbi non avevamo assolutamente dubbi ragazzi miei eccolo qua luca o lasci zero di luca quello che volevamo era questo figliolo è arrivato molto bene under the blue sky e poi fine multi direi ok grazie luca grazie a me fatto patire ok ultima multi che vi faccio e poi teniamo tutto per il drago pt35 pt35 quattro stelle niente 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 siamo senza kafka siamo senza kafka vediamo se è un'altra copia di sampo o di luca preferirei rispetto a serval visto che uso jingguyen però va bene tutto fondamentalmente non ho nessuno e sei e due di sampo molto bene molto 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 bene ok molto bene non dico nulla è 3 di sampo top 15 a 5 stelle claudia io guardo stavolta va bene quindi ti manca è qualcosa che ti manca ok quanti te ne mancano tipo tutti tipo tutti va bene ottimo allora 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 35 sto tremando io sì ce l'abbiamo fatta si ha mentito ma se la senti a sto giro di liana eccola no raga salta a tubito vedi a 32 no abbiamo ancora il 50 e 50 aspettiamo aspettiamo no ragazzi io ho allucinato comunque Riccardo vieni per pulla 4-7 e scappa sempre 5 stelle a te io non capisco veramente come funziona il tuo account speriamo con nel caso c'è qualcuno in partito ah Brogna Brogna no no Brogna è secondare prima Gepard ok Gepard ah già è vero a te manca è vero è vero è vero è vero lo volevo solo io tanto pare infatti ci abbiamo tutti tranne i fake vediamo ecco Diluc eccola eccola e lei invece e niente e 50 e 50 si è vinto quindi 30 vai si qua per forza se al tempo esce prima non la vuole cico se è lei oh fottosi tutti fottosi tutti lei dai rendi subito sta scommessa rendigliela subito ah 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 voglio vedere ha vinto il sì non so che cosa ci sia cosa vogliamo se non è lei velt velt ok quindi sempre il simbolo del nil ti dobbiamo sperare o quello dell'ant ma che pedi sono ma che pedi eros questo è 30 cioè 21 21 21 22 23 no porca troia è colpa del porci e prima ti ha scritto quante clara vuoi trovare porca troia porci porca troia si sospendilo per 5 minuti riesce quanto ti pare l'ha scritto prima prima che tu iniziassi a pullare ha scritto quante clara vuoi trovare Eliana mentre tu stavi mettendo la condivisione porcello 4 se vuoi scrivere aspetta ok sto spesso sto spesso per 10 minuti è lei è lei è lei raga ci siamo è il momento è lei chiamiamola a casa eccola qua 20 20 5 stelle 5 stelle più di 20 o meglio siamo a 10 fermi tutti fermi tutti fermi tutti fermi tutti fermi fermi 11 dai 12 13 14 ce ne porto un cazzo per te vai via 15 16 16 17 18 l'ultima 19 è quella di 20 è quella di 20 let's go 5 stelle 5 stelle sempre io che ogni anno non mi hanno rimandato per un per la matematica ci siamo subito subito l'arma di meco tu hai meco e ti mancava l'arma di meco è nuova new andiamo a 68 andiamo a 68 vediamo un via pon pon facci il piacere di volare nell'iperspazio e non ci disturbare grazie su 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 pon pon prego va bene meglio sicuramente che copie di personaggi che non usi quindi molto bene ciao isra e poi andiamo a 78 se vuoi andare e questa è la multi teoricamente del 5 stelle si esce e mi sembra proprio che sia così è così chiamate Kafka bravi pioggia di Kafka in chat pioggia di Kafka ciao Martina allora 69 70 dai Kafka 71 serva molto bene mamma mia anche per me 72 73 74 oh sì evviva è prima del piti tra l'altro 50 e 50 è prima del piti piti 74 da 50 andiamo a 60 5 stelle 5 stelle 5 stelle ed è qualcuno che ti manca forse oh mio dio oh mio dio siamo a piti 50 non ero pronta aiuto allora c'è l'achievement c'è l'achievement del personaggio nuovo quindi o in questa multi c'è Luca o è un personaggio nuovo quindi sicuramente nel caso in cui non ci sia Luca nella multi non è né Imeco né Gepard è uno degli altri dai 51 52 52 53 54 sì dovrebbe esserci 5 stelle infatti infatti ci siamo dai anche l'arma vogliamo l'arma dai Kafka si gentile 61 62 63 64 65 l'arma per zampo 66 la prossima da adesso siamo nella fase del soft 67 68 69 e niente abbiamo l'arma per Gepard l'arma per Gepard che tu hai un PT 30 speriamo esca il prima possibile tipo adesso tipo adesso eccola 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 tipo adesso stavo dicendo 22 23 pt 23 23 24 24 28 29 30